Ancora dobbiamo digerire l'amarezza per la non partecipazione ai mondiali, però si scende in campo per l'amichevole contro l'Inghilterra. E allora io ho deciso di dare qualche quota, per me vincerà l'Italia, quota 3 e 50. Attenzione però da segnalare anche la possibilità che entrambe le squadre vadano in gol, quota 1 e 87. Quindi arriveranno gol da parte dell'Inghilterra e da parte dell'Italia e poi penso che possa vincere la nuova Italia di Di Biagio. Speriamo che possa essere l'inizio di un nuovo corso. Buona giornata a tutti!